E' il 29 giugno, la festa dei Santi Pietro e Paolo. Siamo intorno alla metà del XII secolo. Il monaco Filagato da Cerami entra nella cappella dedicata ai Santi Apostoli, eretta da poco all'interno del Palazzo Reale di Palermo, e inizia a leggere la sua omelia. Con te mi rallegro, città, e con te, sacro Tempio della Reggia, perché un pubblico di ogni età sia oggi su di te riversato. Di tutte queste cose è causa anzitutto il Dio, e in secondo luogo un Re Pio. Egli, dopo averci procurato molti e grandi benefici, ha aggiunto un'altra prova della sua anima veramente grande e regale. Questo amenissimo Tempio dei Santi Apostoli, Tempio che egli ha costruito nella sua reggia quasi a fondamento e baluardo, molto grande e bello, e distinto da una bellezza nuova, risplendente e di luci, fulgente d'oro e splendente di mosaici, e allietato da immagini, tanto che uno, dopo averlo veduto molte volte, se lo vede di nuovo lo ammira e ne rimane stupito, come se lo vedesse per la prima volta, volgendo qua e là lo sguardo. Lo sguardo di Filagato è uno sguardo colto e stupefatto. È un intellettuale profondamente intriso di cultura bizantina, ma un edificio sacro come quello che si trova a descrivere non l'ha mai visto. Leggendo Filagato da Cerami, questa pagina celeberrima, mi sono chiesta davvero quanto di esistente, di essenza c'è in questa pagina. Non è una pagina retorica, non è una pagina letteraria, è un'omelia che è rivolta a persone in carne ed ossa, e noi abbiamo proprio l'espiro di queste persone. Quello che colpisce in fondo di più nella descrizione di Filagato è che Filagato non indugia nelle immagini sacre, le cita appena, indugia piuttosto nei particolari, che sono appunto più esotici, potremmo dire, in qualche modo. Per cui descrive allo stesso modo anche il soffitto straordinario a Mukarnas, che lui vede da una posizione anche abbastanza ravvicinata. Quanto poi al soffitto, è cosa che uno non si sazia di guardare, ed è meraviglia vederlo e a sentirne parlare, perché è abbellito da intagli sottili variati in forma di canestri, e brillando tutto intorno per loro, esso imita il cielo, quando per l'aria serena è illuminato tutto intorno dalla folla degli astri. Dal tempo di Filagato, sino ai nostri giorni, la cappella Palatina non ha mai cessato di suscitare stupore. Di questo luogo, Guy de Maupassant, diceva che se ne subisce l'intensità, prima ancora di averlo compreso. L'oro dei mosaici che splende sotto la cupola, ci proietta in una chiesa greca. I pavimenti decorati in marmo, in una basilica romana, mentre il soffitto ligno da cui pendono i mucarnas, le decorazioni simili a stalattiti, evoca immediatamente l'atmosfera di un edificio islamico. La cappella Palatina è un oggetto difficile da comprendere, è da ascrivere ad una tradizione. qualcosa che, rompendo con la tradizione e assorbendo elementi da più parti, permette di fatto l'evoluzione, in questo caso, di un linguaggio. La Palermo dei Normanni è stata, nel XII secolo, uno straordinario laboratorio politico, culturale e artistico. Prima di loro, la città era stata bizantina per tre secoli, e poi musulmana per altri 250 anni. Ma nessuna delle due dominazioni ha lasciato delle tracce materiali degne di essere ricordate. Sono stati i re normanni in poco più di mezzo secolo, a scrivere con l'oro dei mosaici bizantini e le geometrie arabe, le pagine forse più belle e originali dell'arte e dell'architettura medievali. Pagine che hanno riunito in un sincretismo unico e irripetibile, le principali culture del Mediterraneo medievale, l'Oriente greco, l'Occidente latino e l'Islam, espressioni di un patrimonio oggi riconosciuto dall'UNESCO. Il concetto di sincretismo è cruciale per comprendere davvero l'arte e la cultura della Palermo-Normanna. E di fatto è il Chieristello che in qualche modo ha suscitato l'interesse dell'UNESCO. Potremmo dire, citando Olivier Gravar, è qualcosa di cronotopico, cioè qualcosa che può avvenire solamente in questo luogo e in questo tempo. Il concetto di sincretismo, la condizione di sincretismo affonda le sue radici in realtà nel palinsesto della vita che si ha a corte, che si ha per le vie e per le strade della città. Anche per le vie di Palermo in realtà si incontravano e riuscivano a comprendersi vicendevolmente il normanno che parlava il francese, il latino, il bisantino che parlava il greco, il berbero che parlava l'arabo, l'ebreo che parlava la sua lingua ma capiva perfettamente anche l'arabo. In tal senso credo che il più grande sincretismo sia avvenuto con la nascita della civiltà islamica. E sono stati i musulmani per primi che hanno preso in prestito le culture altrui mettendole insieme con l'obiettivo di creare qualcosa di nuovo ma sulle spalle in qualche modo della storia e della tradizione. Stando un giorno presso la casa di Abumo Ahmad al-Kafsi, notai una decina di moschee che talvolta l'una stava di fronte all'altra e vi correva in mezzo solo la strada. Avendo chiesto il motivo di questo numero strabocchevole, mi fu detto che qui la gente è così gonfia di superbia che ognuno vuole una moschea sua propria, nella quale non entri che la sua famiglia e i suoi clientes. Intorno al 970 d.C. il mercante iracheno Ibn Hawkal visita la città. Il suo resoconto resta ancora oggi una delle testimonianze più preziose della Palermo araba del X secolo. A quell'epoca la Sicilia, musulmana da oltre un secolo e mezzo, è retta dagli emiri calviti e per gli islamici rappresenta una terra di frontiera. Ibn Hawkal proviene dalla raffinata Baghdad, sede del califato Abbaside e cuore del mondo musulmano. Ai suoi occhi, Balarm, così come la chiamano gli arabi, rappresenta una periferia estrema, abitata da una società ibrida dove ampi strati della popolazione non sono ben arabizzati né ben islamizzati. Il suo giudizio è perciò severissimo. Ibn Hawkal diceva le cose tremende dei palermitani. Dice che invece di andare a seguire la jihad, a proseguire la jihad in terraferma in Italia, hanno pagato un tipo di tasse per non andare. Dice che soprattutto quelli nella campagna a Tona Palermo che parlavano una lingua incomprensibile e che i figli maschi musulmani di questi si sposavano con donne cristiane siciliane. La Palermo che scandalizza Ibn Hawkal è una città multiculturale ricca di innesti provenienti da varie componenti dell'universo musulmano e cristiano. Una città che continuerà a espandersi fino a diventare, nell'undicesimo secolo, uno dei centri provinciali più fiorenti del Mediterraneo musulmano. Ma di questa Palermo, dalle oltre 300 moschee, oggi non restano che poche tracce materiali. Prima le guerre civili che hanno dilaniato l'Emirato Calbite, poi il lungo assedio culminato con la conquista normanna, hanno finito per distruggere gran parte di quella città. Per quasi un secolo, 90 anni, tre generazioni, dalla caduta dell'Emirato Calbite fino alla coronazione di Ruggiero II. La Sicilia è stata presa da disordine, di guerra, di confusione. E in questo tempo, Temo, è stato distrutto la maggior parte dell'infrastruttura della Sicilia musulmana. All'interno della chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, un mosaico raffigura un sovrano mentre viene incoronato da Cristo. Indossa una tunica costellata di croci dorate e di gioielli, ed è fasciato dalla lunga stola con cui sono vestiti gli imperatori bizantini durante le cerimonie. L'espressione è impassibile e maestosa, simile a quella del Cristo Re che lo sta incoronando. È la stessa rappresentazione del potere che utilizzano gli imperatori che regnano nella Seconda Roma, a Costantinopoli. Ma la figura ritratta nel mosaico non è un Basileus d'Oriente, anche se scritto in greco, il titolo adottato è quello latino di Rex. Ruggerius Rex recita la scritta Ruggero Re. Così ci viene presentato in questo celebre mosaico il normanno Ruggero II d'Altavilla. In una terra dominata fino a poco tempo prima dagli Arabi, il primo re di Sicilia vuole apparire come un faro che emana luce divina. L'autore di questo manifesto ideologico è ritratto nel mosaico che si trova sul lato opposto della Chiesa. È Giorgio di Antiochia, il potente ammiraglio di Ruggero II, che si prostra dinanzi alla Vergine Maria, alla quale ha dedicato la Chiesa che ha fatto costruire. Ruggero II, nel suo obiettivo di ottenere qualcosa di straordinario, di unico, è certamente consigliato e appoggiato da una figura straordinaria che è Giorgio d'Antiochia, una figura che con sé porta non soltanto la tradizione bizantina ortodossa dall'Oriente, ma anche le conoscenze politiche e amministrative del mondo islamico e fatimile. Giorgio è nato in Antiochia, in Siria, e quando lui diviene ministro di Ruggero, in 1926, ha già tutta questa formazione, in modo che può creare una nuova monarchia, che non è una monarchia nomana, non è una monarchia pisantina, non è una monarchia musulmana, ma è già un'ipide. La Chiesa di Giorgio è uno scrigno bizantino nel cuore di Palermo, un luogo dove si può ancora ascoltare il suono di una messa celebrata in greco. Dal 1937, infatti, questa chiesa appartiene all'eparchia di Piana degli Albanesi e la liturgia viene ufficiata secondo il rito greco-bizzantino. Per una chiesa come questa, si è trattato di un vero e proprio ritorno alle origini. L'edificio che Giorgio d'Antiochia fa costruire come sua cappella privata prima del 1143, era diverso da come lo vediamo oggi. aveva l'aspetto di una tipica chiesetta bizantina, un edificio a pianta centrale sormontata da una cupola. L'ammiraglio aveva affidato la nuova chiesa palermitana alle cure del clero greco. La Sicilia andava ricristianizzata e il clero greco rappresentava per Ruggero II e per il suo ministro più influente un elemento strategico per controllare un territorio nel quale la presenza musulmana era ancora preponderante. I musulmani che si convertivano al cristianesimo preferivano probabilmente aderire al rito greco che avevano imparato a conoscere durante la convivenza con i cristiani di Sicilia. A Santa Maria dell'ammiraglio il passaggio al rito latino è avvenuto solo nel 1435 quando la chiesa è stata ceduta al vicino monastero femminile della Martorana. Da quel momento in poi la struttura della piccola cappella medievale di Giorgio è stata completamente stravolta per adeguarla alle esigenze di una chiesa conventuale. Solo con i restauri del 1870 il nucleo centrale dell'edificio è stato riportato per quanto possibile al suo aspetto originario. E' straordinario il fatto che all'interno della chiesa di Santa Maria dell'ammiraglio convivano due espressioni così vitali della produzione artistica palermitana e siciliana. Da una parte quella bizantina perché a Santa Maria dell'ammiraglio la lingua è propriamente bizantina e poi invece un ritmo diverso, quello del barocco. Quello dei marmi mischi che a Palermo celebra davvero una delle rappresentazioni più straordinarie e più grandi. Ruggero II e Giorgio di Antiochia sanno che la costruzione del regno è un'impresa non solo militare e politica ma essenzialmente culturale e Bisanzio offre loro ideali e forme della rappresentazione adeguati alle ambizioni del nuovo sovrano. Il re e il suo primo ministro scelgono di importare la più nobile e preziosa delle arti decorative bizantine il mosaico. Giorgio sfrutta le sue conoscenze per far venire a Palermo la migliore squadra di mosaicisti greci di Costantinopoli. La chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio rappresenta forse l'episodio più puro dell'arte bizantina in terra di Sicilia. Chiunque entra nella chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio è attratto dal centro e si pone sotto la cupola. Questo spazio centralizzato pieno di mosaici dei colori intensi ma straordinariamente sinfonici. Al vertice della cupola l'immagine ieratica e senza tempo del Cristo Pantocratore sembra allontanarsi a un'altezza infinita. Una precisa gerarchia di figure si dipana verso il basso e negli spazi laterali seguendo un programma iconografico consolidato in ambito bizantino. È una vera e propria esplosione figurativa Per la Sicilia si tratta di un ritorno all'immagine dopo un periodo di astinenza che era durato più di 300 anni. Prima a causa degli effetti del periodo iconoclasta bizantino che non consentiva la raffigurazione antropomorfa nell'immagine sacra e poi per l'adesione ai precetti dell'Islam nei secoli della dominazione araba. In Sicilia, Palermo l'immagine sacra ma anche l'immagine profana tace per secoli. E io immagino e lo dico sempre ai miei allievi mi immagino Palermo dell'undicesimo secolo laddove i cittadini laddove gli abitanti per vedere l'immagine o incontravano l'altro l'altra persona o vedevano la propria immagine che è raramente riflessa in uno specchio. E invece con Ruggero II si trovarono davanti secondo me a un evento ma talmente straordinario che più di quanto non sia stato per esempio il vedere i primi film o di vedere le prime fotografie. Qualche anno fa abbiamo capito per la prima volta che questa chiesa è stata costruita non come abbiamo pensato prima dopo la Cappella Palatina ma ben prima della Cappella Palatina già nei primi anni trenta. E in questa chiesa troviamo tanti degli elementi che poi troviamo nella Cappella Palatina non soltanto i materiali cioè i mosaici sui modelli bizantini il pavimento di Oppo Secchide iscrizione in arabo anche iscrizione in arabo scritto dipinto sul legno. E soprattutto troviamo traccia del multiculturalismo e della Palermo multilingue proprio in una iscrizione che recita una preghiera uno sanna un passo bizantino ma in lingua araba. quando Ibn Jubair un viaggiatore letterato musulmano di Spagna visiterà la chiesa nel 1184 rimarrà letteralmente a bocca aperta. Una delle cose degli infedeli più degne di nota da noi qui osservate è la chiesa detta dell'Antiocheno. Noi la visitammo il giorno di Natale che è il giorno di festa solenne per i cristiani e la trovammo piena di grande concorso di uomini e di donne. Vedemo tale costruzione a cui ogni descrizione vi è meno ed è indiscutibile che essa è il monumento più bello del mondo. Dall'alto si aprono finestre in bell'ordine con vetri dorati che accecano la vista col bagliore dei loro raggi e destano negli animi una suggestione da cui Allah ci tenga lontani. Santa Maria dell'ammiraglio nei primi anni quaranta del dodicesimo secolo può essere considerata il vero inizio del programma rugeriano. Dieci anni prima l'imponente duomo di Cefalù aveva segnato invece una clamorosa falsa partenza del progetto di Ruggero II. Dietro le travagliate vicende di questa cattedrale ci sono i complessi rapporti che il potere normanno ha intrattenuto con il papato. L'avvento dei normanni aveva turbato non poco lo stato pontificio. I papi erano preoccupati dalla facilità con cui questo pugno di cavalieri mercenari senza terra provenienti dal nord della Francia si andava impossessando di quello che rimaneva nell'Italia meridionale dei domini Longobardi e Bizantini. Inizialmente il papato aveva cercato di contrastare in tutti i modi l'ascesa dei figli di Tancredi d'Hotville ma nel 1059 il papa Niccolò II si era trovato costretto a cambiare strategia aveva concesso a Roberto d'Altavilla detto il Guiscardo il titolo di duca di Puglia e di Calabria e gli aveva affidato la missione di liberare la Sicilia dalla dominazione musulmana conferendogli anche l'investitura come futuro duca dell'isola quando il fratello del Guiscardo Ruggero I d'Altavilla conquista l'isola riceve come ringraziamento da papa Urbano II il più straordinario dei privilegi quello della legazia di fatto il conte di Sicilia e i suoi successori assumevano il ruolo di legato pontificio con poteri che prima d'allora spettavano solo al papa ed è con questi poteri straordinari che nella cattedrale di Palermo la notte di Natale del 1130 il figlio di Ruggero I Ruggero II viene incoronato re di Sicilia e di tutto il meridione Ruggero II nel 1130 finalmente raggiunge un obiettivo straordinario che è quello di unificare il meridione d'Italia di creare un regno e il suo regno viene legittimato di fatto da un papa che è Anacreto II che immediatamente dopo la sua elezione legittima viene invece dichiarato papa illegittimo e quindi antipapa per i partiti delle famiglie patrizia romane che invece appoggiano Innocenzo II dunque Ruggero II vive degli anni difficili tra il 30 e il 39 un anno dopo l'investitura regale Ruggero II funda la chiesa di Cefalù l'antipapa Anacleto II la consacra come cattedrale l'eccezionale monumentalità del Duomo sembra quasi voler mascherare la mancata legittimazione papale La cattedrale di Cefalù è la cattedrale del cuore di Ruggero fondata nel 31 va avanti con un disegno davvero di proporzioni eccezionali come sa chiunque va a Cefalù e ha la visione di questa città appollaiata ai piedi di questa mole straordinaria tra la rocca e il mare Nel frattempo l'antipapa viene deposto da Innocenzo II che gode del sostegno del sacro romano impero e Ruggero viene delegittimato e scomunicato dal nuovo pontefice Il 39 e il 1139 un anno è fondamentale perché Innocenzo II catturato di fatto è costretto con la pace di Mignano a riconoscere la soronità di Ruggero II quindi ci sono venuti nove anni per legittimare davvero il potere di Ruggero II gli anni 40 in effetti sono gli anni più importanti per Ruggero II È in questo periodo che nel più nordico degli edifici della Sicilia normanna entrano gli elementi di quel sincretismo culturale e ideologico che caratterizzano il programma di Ruggero in particolare il mosaico ma a Cefalù i mosaicisti si trovano di fronte uno spazio architettonico di tradizione nordica per loro inusuale uno spazio che non è stato pensato per accogliere il programma iconografico di matrice orientale per esempio manca la cupola che è il luogo dove gli artisti bizantini sono soliti collocare l'immagine del Cristo le maestranze allora adattano il programma e raffigurano il re celeste nell'abside centrale alta quasi 25 metri l'esito è stupefacente nella cattedrale campeggia una gigantesca figura del pantocratore un capolavoro dell'arte musiva capace di impressionare ed emozionare i fedeli con la sua monumentalità nel 1145 Ruggero II decide di trasformare la cattedrale nel suo mausoleo dona alla chiesa di Cefalù due grandiosi sarcofagi di Porfido destinati a essere collocati nelle braccia del transetto il primo è riservato alla propria sepoltura il secondo a celebrare la sua fama le ambizioni del re però saranno frustrate alla sua morte nel 1154 le sue spoglie verranno deposte in un sarcofago romano di spoglio all'interno della cattedrale di Palermo ma che fine hanno fatto allora le tombe vuote che sono rimaste a Cefalù dobbiamo aspettare il 1215 Federico II figlio di Enrico VI imperatore del Sacro Romano Impero e di Costanza la figlia apostupa di Ruggero II Federico II nel 1215 sta da Quisgrana viene incoronato matura la decisione che quei sarcofagi di Porfido siano trasportati nella cattedrale di Palermo per essere destinati l'uno quello di Ruggero II a Tom di Federico II e l'altro invece al padre di Federico II proprio quello di Enrico VI di cui abbiamo detto prima a Palermo le iniziative di Ruggero II hanno avuto senza dubbio maggiore fortuna i maestosi volumi del Palazzo Reale sono ancora lì a testimoniare il successo ottenuto dal re nel trasformare l'antica Panormos in una delle più splendenti capitali del Medioevo il palazzo domina la città da quell'altura che già i punici avevano scelto come strategica per difendere l'insediamento e sulla quale i primi emiri musulmani avevano costruito la loro fortezza la Galca dall'arabo Halca il recinto gli emiri calbiti nel X secolo avevano lasciato la Galca per trasferirsi in una nuova cittadella fortificata eretta nelle vicinanze del porto quando nel 1071 Roberto e Ruggero I d'Altavilla conquistano Palermo ridanno vita alla vecchia fortezza costruendo quello che le fonti ci descrivono come un nuovo castrum un castello con Ruggero II quel castrum si trasformerà in palazium in una nobile e lussosa residenza reale una reggia che ha visto passare nelle sue stanze re Normanni vice re spagnoli sovrani delle due Sicilie sino a ospitare dal 1947 i rappresentanti dell'assemblea regionale siciliana riteniamo che l'essere palazzo reale di Palermo ancora oggi sede dell'assemblea siciliana del Parlamento che si riunisce a Sala d'Ercole sia un valore è bello secondo me che i turisti sappiano che è un palazzo vivo è un palazzo dove si leggifera dove il popolo è rappresentato è difficile oggi farsi un'idea precisa del palazzo nel suo aspetto medievale molte fabbriche moderne si sono sovrapposte alle strutture originali quella più evidente è la facciata seicentesca sul lato orientale quello che guardava alla città fortunatamente ciò che si è conservato dei tempi normanni è altrettanto pregevole e rappresentativo di ciò che è stato distrutto l'imponente torre pisana che porta il segno inequivocabile dell'architettura islamica e accanto la piccola torre gioaria al gioaria l'ingioiellata dove si conserva uno degli ambienti più raffinati e meglio conservati del palazzo la cosiddetta stanza di ruggiero decorata probabilmente al tempo di suo figlio guglielmo primo la sala di ruggiero è un unicum è un unicum perché in tutta l'area mediterranea non esiste non si è conservato almeno un luogo che abbia un apparato musivo di carattere profano come la sala cosiddetta di ruggiero un spazio piccolo tutto sommato voltato con una volta straordinaria sulle pareti sono fissi immoti queste scene di caccia mai ho visto una scena di caccia meno movimentata più iconica più simmetrica il cuore di tutta la reggia normanna è la cappella palatina lo spazio sacro attorno al quale orbitava tutto il palazzo oggi vi si accede dal primo piano del cortile emma cheda una struttura della fine del cinquecento che insieme alle altre fabbriche di quell'epoca ha finito per nascondere l'aspetto esterno originale dell'edificio ma una volta entrati si è ricompensati dalla vista di uno dei monumenti medievali meglio conservati al mondo la cappella palatina di palermo rispetto anche ad altri luoghi della sicilia normanna è la più straordinaria è il non plus ultra perché è non soltanto il luogo del re ma è il luogo dove il re spinge al massimo le maestranze per ottenere qualcosa di davvero unico e straordinario raramente è avvenuto nella storia che le migliori culture visive di un'epoca si siano incontrate nel medesimo tempo e nel medesimo luogo nella cappella palermitana ciascuna di esse ha contribuito a illustrare il programma regale di Ruggero II i mosaici bizantini per la figuratività le maestranze islamiche per la capacità di affascinare attraverso invece l'astrazione la trascendenza e la geometria ecco tutti questi media vengono messi insieme l'orizzonte dei mosaici è quello greco-bizantino ma la scelta e l'ordine delle scene si piegano alle esigenze del programma del sovrano derogando dalla ferrea regola liturgica le scene della vita di Cristo occupano interamente il transetto meridionale nessun cenno alla passione e alla morte di Cristo allo stesso modo nei mosaici delle navate laterali che narrano le storie di Pietro e di Paolo non c'è traccia della morte per martirio dell'uno e dell'altro come se alla corte del re Normanno e dei suoi successori ci fosse posto solo per vittorie miracoli e trionfi lui non utilizza le immagini sacre secondo un principio ortodosso come invece avviene nella chiesa di Santa Maria dell'Amiraglio dove l'arte bizantina è cristallina no qui effettivamente l'immagine anche quella sacra in qualche modo per Ruggero II è uno dei possibili medium nella sua cappella Ruggero può permettersi anche di rompere schemi architettonici e iconografici consolidati osservando le scene della vita di Cristo nella parete del transetto meridionale si nota una strana disposizione le immagini sembrano quasi ammassate l'una sull'altra mentre nel transetto settentrionale troviamo una parete quasi priva di mosaici in quella parete si trova un luogo particolare che è stato interpretato come un possibile balcone quindi piattaforma per il re una piattaforma sopraelevata una piattaforma privilegiata da cui il re potesse seguire la funzione e godere di questo affastellamento di immagini dall'altra parte se guardiamo poi i mosaici e come sono disposti nelle pareti troviamo lo spostamento della vergine odigitria nel transetto settentrionale rispetto all'asse centrale una asimmetria che secondo la tradizione i canoni dell'arte bizantina è assolutamente atipica e potrebbe trovare giustificazione solamente se immaginiamo in effetti una finestra per il re che affacciandosi da quella finestra avrebbe con un gioco ottico straordinario e raffinatissimo avrebbe visto la vergine al centro diverse sono le tracce a favore di una chiesa rugeriana che nella sua area sacra terminava nella zona del santuario prima delle navate ed in questo senso possiamo rivedere nelle navate non tanto una navata basilicale di una chiesa quanto una sorta di aula reggia innestata di fronte ad una cappella con un significato tra l'altro simbolico e politico molto forte che vede il re terreno posto sullo stesso piano del re della sfera celeste che è il Cristo se il presbiterio parla la lingua bizantina i soffitti delle navate parlano decisamente l'arabo araba è la tipologia architettonica lo stile delle pitture e la lingua in cui sono composte le iscrizioni la struttura moncarnas del soffitto della navata centrale è un'opera di carpenteria eccezionale oggi la definiremmo un manufatto di lusso si tratta di una di una struttura unica nel suo genere i mucarnas islamici entro il dodicesimo secolo che noi conosciamo sono realizzati o in stucco o in pietra il mucarnas della palatina è l'unica testimonianza che abbiamo entro il dodicesimo secolo realizzata in legno si tratta di un intaglio ligno ma di pannelli che vengono montati insieme così da costituire proprio una struttura autoreggente autoportante e immaginare un soffitto lungo 18 metri per 5 e con una cornice a mucarnas alta circa 2 metri e 20 è stupefacente pensare che si reggesse da sola i soffitti della palatina conservano il più grande complesso di pitture arabe conosciuto gli studiosi sono arrivati a contare oltre 3.300 figure uno sterminato paesaggio pittorico di carattere profano sono in gran parte legate al cosiddetto ciclo principesco o regale islamico un ciclo che venne elaborato intorno al IX secolo nell'Iraq Abbasite e che nasce con un intento con la funzione di celebrare il potere e la ricchezza del sovrano al centro di questo programma c'è il re il sovrano circondato dai suoi compagni in questo simposio tutti sono dipinti secondo la stessa formula cioè seduti seduti in terra con un bicchiere di vino questa è l'immagine forse l'immagine più essenziale di un sovrano musulmano con un bicchiere di vino in mano dal VIII IX secolo fino al 1200 1300 è il ciclo dei piaceri del principe e della vita di corte e dunque troviamo una sorta di grande festa con banchetti lottatori giocatori di scacchi in una delle più antiche rappresentazioni del gioco degli scacchi troviamo figure che certamente hanno poco a che fare con il mondo latino cristiano per molto tempo la critica ha creduto che le pitture del soffitto non facessero parte del programma ruggeriano della cappella che si trattasse semplicemente di una collezione di immagini sparse ma studiando in dettaglio quell'oceano figurativo alcuni studiosi hanno cominciato a rendersi conto che fra certe pitture dei soffitti ed altri spazi ed elementi decorativi della cappella esiste un dialogo serrato proprio al centro della navata su un lato ci sono due immagini del palazzo e della cappella palatina e sull'altro lato precisamente sull'altro lato nei stessi due pannelli del soffitto ci sono due immagini dei re siciliani in vestiti musulmani questo significa che il re un umano portava questi vestiti non credo ma serviva per appoggiare questa immagine del re multiculturale secondo me c'è una confusione molto fondamentale che facciamo troppo spesso tra la convivenza e il multiculturalismo indigeno siciliano popolare non mi sembra che la Sicilia in Palermo nella metà del dodicesimo è più multiculturale che Salerno o Amalfi o Napoli o Barri mi sembra che tutti questi hanno questa miscela di culture importantissime interessantissime ma quello che è diverso per la Sicilia è che multiculturalismo è stato preso dai rei siciliani dai rei nomani come una politica un multiculturalismo creato fatto in pezzi da pezzi importati dal mondo contemporaneo non del passato siciliano ma dall'estero contemporaneo dal Bisanzio dal mondo musulmano del Mediterraneo e da alcuni centri diversi nell'Europa Latina Musaicisti bizantini da Costantinopoli artigiani islamici dall'Egitto e scalpellini e marmorai dalla Campania nel cantiere della Cappella ruggeriana il sincretismo culturale è più di una semplice giusta posizione di linguaggi diversi è un sincretismo genetico un principio in grado di generare nuove forme solo nella Cappella Palatina si ha l'impressione di camminare su dei raffinati tappeti orientali nel pavimento della Cappella Palatina troviamo veramente la fusione tra tradizione latina tradizione bizantina e apporto islamico che ritroviamo infatti nella modalità in cui le tessere creano degli intrecci geometrici assolutamente particolari e anche di difficile concezione e progettazione ma un elemento ancora più interessante risiede in un particolare materiale che è stato adoperato per la realizzazione delle tessere bianche e che è un materiale artificiale di recente abbiamo potuto osservare che questo materiale è presente anche nei mosaici bizantini per cui arrivati ad un certo punto dobbiamo arrenderci all'idea che davvero qui le maestranze che hanno lavorato insieme fianco a fianco hanno collaborato tra loro mediterraneo che brought in artista ed è un'entire workshop da diverse culture e in so doing liberate le artist da le constraints che sono imposto in loro tradizioni e è questa sensazione di liberazione che lede la creatività e originale di norme e achievement se nelle chiese gli elementi islamici sono contenuti in un orizzonte cristiano negli edifici dedicati ai piaceri privati c'è una prevalenza assoluta del mondo arabo della sua arte e della sua raffinata idea del bello immediatamente fuori dalle mura delle città Ruggero II e i suoi successori si affidano alle sapienti mani dei giardinieri e degli architetti islamici per creare un magnifico parco reale il Genoardo l'arabo Jannat Alard il giardino o paradiso della terra in questo vasto territorio suburbano la tanto celebrata conca d'oro di Palermo vengono costruiti diversi edifici tutti di fattura islamica dove i sovrani normanni smettono i panni del Rex per adottare quelli del sultano Ruggero II sceglie per sé il castello della Favara forse già dimora di un emiro calbita con il suo immenso parco che si estende alle pendici del Monte Grifone e affinché a un sì grand'uomo non mancassero in alcun tempo le delizie delle acque e della terra in località detta Favara fece un bel vivaio nel quale fece mettere pesci di ogni genere fatti venire da varie regioni e accanto allo stesso vivaio fece anche edificare un palazzo assai bello e vistoso il parco ospitava un ampio bacino che delimitava tre dei lati del Palazzo Reale un grande lago con al centro un'isola coltivata ad agrumi che gli è valso il nome di Mare Dolce in questo grande lago la grande quantità di acqua serve a duplicare la bellezza del palazzo questo è un escamotage paesaggistico molto in uso nell'architettura islamica il potere dell'uomo viene duplicato sulla natura viene duplicato dal riflettersi dei suoi manufatti sull'acqua ma anche un grande grandissimo bacino d'acqua per l'irrigazione i regnanti erano molto attenti all'economia e furono immediatamente capaci di capire il segno il senso della rivoluzione agricola araba gli arabi avevano importato piante che diventeranno fondamentali per l'economia siciliana la canna da zucchero e gli agrumi limone e aranciamaro nel lago c'erano anche pesci che provenivano da diverse da diverse regioni ed era il luogo dello svago del piacere placatisi dunque per un certo tempo nel regno i tumulti esterni il re che frattanto stava nell'ozio e nel riposo cominciò a vagare con la mente e decise come già il padre aveva edificato la favara ed altri luoghi di delizia di fabbricare anche egli un palazzo che superasse per comodità e perfezione artistica tutte le opere del padre ala ziz in arabo lo splendido tale doveva apparire il palazzo fatto costruire nel 1165 da guglielmo primo figlio e successore al trono di ruggero secondo ancora oggi la ziza rappresenta il modello più limpido e meglio conservato dell'architettura palazziale arabo normanna il vero gioiello del palazzo è costituito dalla sala centrale del piano terreno la sala della fontana con le sue decorazioni in opus sectile e i mosaici bizantini con temi profani e iconografie islamiche il duomo di morreale costruito da guglielmo secondo è l'ultima grande testimonianza dell'eclettismo normanno in sicilia forse la più matura di certo la più solenne un'impresa nella quale si fondono la monumentalità di cefalù e la ricchezza della cappella palatina morreale riannoda per certi versi i fili che aveva lanciato aveva lanciato Ruggero secondo guglielmo secondo nipote di Ruggero secondo è molto più vicino al nonno ai sogni del nonno che non a quelli del padre ed è curioso però che questo canto del cigno di straordinaria varietà ampiezza avvenga fuori Palermo lì al confine di quella beata pianura sono rimasta sempre impressionata dal fatto che in morreale la cattedrale è in asse in qualche modo con la cattedrale di Palermo sono le due cattedrali che a distanza di 4 mili si fronteggiano il duomo di Monreale e la cattedrale di Palermo simboleggiano la contrapposizione fra lo stato normanno e la chiesa palermitana sono l'esito dell'accesa rivalità che esplode tra il re e l'arcivescovo un conflitto che però non viene risolto con le armi e le congiure ma attraverso l'edificazione di due monumenti due grandi chiese che affermano entrambe nel modo più visibile e concreto il potere del committente nei confronti del rivale e Guglielmo II pensa la cattedrale di Monreale come un mosuleo fa erigere una tomba di Porfido con il baldacchino gemella di quella di Cefalù e la destina al padre Guglielmo I probabilmente probabilmente se la morte non fosse arrivata troppo troppo velocemente nel 1189 anche lui avrebbe avuto una tomba che poi è stata data solo nel 1500 Guglielmo II dunque per evitare di inciampare negli stessi problemi che aveva avuto Ruggero II decide sì di fondare il suo mausoleo ma nell'alveo della tradizione latina quindi Monreale e il Duomo di Monreale che sono certamente impregnati anche di cultura bizantina per la presenza di mosaici 6.000 metri quadri di mosaici quindi uno dei cicli più vasti del Medioevo Mediterraneo e tuttavia possiamo dire che è una chiesa ormai latinizzata i monaci arrivano da Cava dei Tirreni la Abbazia è un monastero un benedettino viene creata e ordinata attraverso monaci che vengono da Cava dei Tirreni lo sviluppo dell'arte Siguro Normanna che ha trovato il suo apogeo attraverso la figura di Ruggero II con la committenza di Ruggero II volge verso un epilogo e rientra nell'alveo della tradizione latina anche se la chiesa latina costruita da Guglielmo II sembra infinitamente distante da quell'orizzonte greco orientale nel quale era nata la chiesa di Giorgio d'Antiochia troviamo anche qui gli elementi caratteristiche del linguaggio sincretico elaborato dai normanni le porzioni originali della pavimentazione in opus sectile rappresentano come nella Cappella Palatina un'eccezionale opera d'arte musiva di matrice bizantina e coniugazione islamica questa idea di appropriazione culturale per creare un linguaggio unico è riuscita talmente bene che anche quando noi osserviamo il più latino degli elementi il più ortodosso volendo comunque nel senso letterale del termine il più tradizionale che è il Tuomo di Monreale troviamo comunque un linguaggio delle cifre particolari che costituiscono poi di fatto l'identità visiva ed estetica della Sicilia normanna è stato creato un nuovo modello capace di far nascere una nuova tradizione purtroppo però il modello politico invece non ha resistito e con l'epilogo dei normanni questo modello muore la dinastia normanna in Sicilia è durata allo spazio di tre sovrani Ruggero II suo figlio Guglielmo I e suo nipote Guglielmo II morto quest'ultimo nel 1189 le fortune storiche della Sicilia mutano qualche anno dopo l'imperatore tedesco Enrico VI sposa la figlia di Ruggero II Costanza e attraverso quest'unione l'impero romano d'occidente rivendica il regno che viene assorbito sotto il figlio di Enrico Federico II la Sicilia finisce ai margini di un asse geopolitico che si sposta definitivamente nell'Europa continentale uno dopo l'altro gli imperatori tedeschi si faranno incoronare indossando uno splendido mantello di seta rossa ricamato con l'immagine di una palma fiancheggiata da due leoni che sbranano due cammelli lungo il bordo corre un'iscrizione in arabo che proclama le virtù del principe è il celebre mantello di Ruggero II che il re normanno fece ricamare nell'opificio di Palazzo Reale il simbolo di un regno mediterraneo che accolse sotto un solo manto uomini e donne di fedi